Il gioco di oggi è molto semplice, quello che dovremmo fare è soltanto una cosa, indovinare il prezzo del vestito, della camicia, dell'ombrello, delle calze, degli occhiali, di qualsiasi cosa che ci invia l'altro, attraverso due indizi. Quindi in pratica io ti mando una foto di una maglietta, di un brand, di qualsiasi cosa, tu devi indovinare il prezzo e hai soltanto due indizi, ok? Vai, 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 abbiamo un range di errore, brother, facciamo 100 euro, possiamo sbagliare di 100 euro, io te lo dico, sono stato veramente cattivo, ok? E abbiamo due indizi, quindi due domande, l'altro può rispondere solo o sì o no, nient'altro, ok, 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 iniziamo subito, iniziamo subito, attenzione, allora, ti invio già io una foto su whatsapp, inizio io, guardo whatsapp, ok, ok, maglietta classica di Gucci, ok, ma che tipo di domande si possono fare, cioè voglio dire, cioè ti posso dire si trova tra tra e ti do un range o... Allora, io posso dire soltanto sì o no, ma non mi puoi chiedere si trova tra o tra, cioè tu la cosa massima che mi puoi chiedere è, che ne so, se è di un brand o di un altro, mi puoi chiedere... Vabbè, bro, questo è palesemente di Gucci, voglio dire, a meno che non sia fake Eh, può essere qualsiasi cosa, devi decidere tu Eh, no, vabbè, devi... Eh, no, così non vale, bro No, 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 attenzione, 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 vai, inizia tu, hai soltanto... Ok, allora, secondo me sei stato... Questa qua probabilmente costerà tanto, però sarà un fake e quindi ti dico 80 euro Quanto? 80 euro Ok, è la tua risposta definitiva? Sì, 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 dai E 80 euro sbagliato Ok, basta Quindi? E quindi cosa? Ho sbagliato? No, hai due tentativi, hai, hai un altro Ah, due tentativi? Sì, fai Ok, 80 euro sbagliato e allora costerà tanto, 4,50 Sbagliato, 350 euro Vabbè, bro, scusa, 350 avevo un massimo di range di 100 per poter sbagliare, giusto? Ho detto 4,50 Eh, eh, sì Ma è vero Ah, 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 ah No, 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 regole, sono regole e sto oggi comunque... Questa qui, ragazzi, è stata con quella più facile di tutte Poi ne ho molti più stronti Ok Cerissimo Felpa Valenziaga Questa è la prima Felpa Valenziaga Allora, innanzitutto Valenziaga, ok E' real, immagino, non può essere fake, eh E' real, bro, è real, è real Ok, non puoi metterlo Perché secondo me è più difficile No, è real Ok, è real, felpa Valenziaga Allora Io ti ricordo, ti ricordi la maglietta che ho comprato di Valenziaga che è simile? Sì, ma non mi ricordo minimamente il prezzo, bro Cioè, non ho proprio idea Io non ho nessuna felpa di Valenziaga Quindi non so neanche... Cioè, non ho proprio idea Allora, inizio con le domande, ok È un prezzo per la quale, conoscendomi a me, se mi prendo bene, la compro oppure no? Cioè, se io vado in questo negozio e dico, cavolo, bella questa, sono preso bene, la compro oppure no? No Non la compro? Secondo me no Quindi costa più di 500 euro Perché io non compro roba che costa tanto, non mi interessa Non lo so Fra, mi serve un altro indizio, bro, dammi un altro indizio, se no è impossibile Non so, cosa vuoi sapere, bro? Voglio sapere, voglio sapere È uno dei modelli nuovi È uno dei modelli nuovi Ok, ma che cavolo c'è, Interfra, costano tutti uguali Eh, i modelli... Eh, no, perché i modelli nuovi costano... 650 euro No, è più di 650 950 Ha! Quanto è? 1100 Ma chi è l'idiota che compra questa felpa di Valenziaga a 1100? Allora, c'è da dire che però è molto bella, bro, eh Va bene, sì, sarà anche molto bella Allora, stop Se io compro una felpa azzurra e ci attaccano scotch di carte E scrivo... È uguale E scrivo Luca, Luca Esposito Va bene, basta Tocca a me, tocca a me, tocca a me Fermo, 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 fermo Adesso, adesso inizio anche io con quelle difficili Bro, il mio non era difficile Hai voluto fare, hai voluto fare quello così Adesso inizio anche io con quelle complesse Comunque hai detto 950, bro? Sì Ah, ok, ok No, io ho detto 1050 No, sì, sì, ciao Io ho detto 1050, bro Sì, sì Max, per favore Guarda la clip, va 950 Ah, bro, 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 bro Stop, stop Questa molto probabilmente Allora, non è di Louis Vuitton Mai nella vita Perché Louis Vuitton non ha mai fatto collaborazione con Nike Ok Ok Quindi è una replica Ok Una replica o comunque una custom La custom può costare 250 euro Quindi non vuoi neanche indizi Risposta definitiva 250 Io ti direi 250 euro perché è una custom Però è Louis Vuitton Ci sei vicino 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 È più di 250 Sì, è più di 250 È meno di 350 È meno di 350 È meno di Dai, fra Non puoi fare così Hai un indizio te ho dato Dai Quindi risposta definitiva Secondo me è 300 300? Sì La risposta è sbagliata Aspetta ti voglio dir prezzo preciso No, aspetta Un secondo tentativo o sbaglio? Hai un secondo tentativo Vai, vai Secondo tentativo Vai Secondo tentativo Nike, zio boia Te lo dico Dimmelo, dai Dimmelo 206 Ah, vabbè 1.000 euro È impossibile Sì, fra Su StockX È l'unico È impossibile Bro, bro Ma allora Stop Tu non puoi dirmi Chi è l'idiota che comprerebbe una felpa azzurra a Balenciaga 1100? Io ti dico Ma chi è il pluri idiota Ma l'idiota più idiota del mondo Che potrebbe comprare delle scarpe così di merda Ascolta Ah, 260.000, bro Nike Air Force One Low Louis Vuitton Morgan Brown Dahmer Azzur Prezzo 206.000 euro E non è neanche il prezzo Cioè, posso fare un'offerta Se lo propone di più Allora C'è fra 200 Veramente Allora Non so se Chi ci sta seguendo in questo momento È malato di scarpe Però per favore Curatevi Perché così non esisterà Vai, vai Tocca a te Siamo uno Compratevi le Air Force One Total White Che sono perfette Fai, silenzio Che soltanto tu le utilizzi quelle HGCDS Esatto Allora Indizio 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 Ti rifaccio la domanda Ok Se mi prendo bene Ed è una bella giornata E voglio comprare qualcosa La compro? Secondo me sì Questa sì Ok Allora costa secondo me Stop Se fosse una bella giornata Non lo prenderesti mai nella vita Perché è una pelliccia Ok Vabbè Madonna che risate Vado sempre molto divertente 350 No Di più o di meno? Di più 450 No Se non te io spendo più di 550 euro Per una pelliccia Secondo me sì Bro Le pellicce di base costano tutte tanto Quindi Fammi Dimmi un'altra Partire da questo presupposto bro Cosa vuoi sapere? Bro Cosa sono questi tasti che stai schiacciando Sulla testiera? No No Aspetta No Bro Basta barare Ma ogni volta Mari No Aspetta Vai Ultimo tentativo 750 No Quanto è? 632 Vabbè bro 750 Dai No bro Eh io ho detto 250 E tu hai detto 206 Mila euro Vabbè Dai va bene Tu hai uno per te Va bene Dai va bene Va bene Ma perché sono forte bro Sono forte Sì 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 Va bene Hai voluto fare il figo Ok Vai Ok Vai Bro Questi Quanto costano? Bro 6 euro e 50 Su Shane Porco tu Esatto 6 euro e 50 esatti Veramente Sì Davvero bro Ti giuro No vabbè bro Sono troppo forte Bro sono troppo forte Questo non è Bro SOS È il più forte In qualsiasi Situazione Bro dai Guarda la foto Sono tipicamente 6 euro e 50 Sai io cosa pensavo Io pensavo che tu pensassi Vabbè Mi ha mandato una foto Col tranello In realtà Sono un botto In realtà è semplice No bro Perché sono Esattamente Cioè Tutte quelle tipo pubblicità Che ti appaiono Su Shane Su Shane Magari quando scorri Le sale di Instagram Sclicchi C'è scritto sempre 6 euro e 50 Magari tipo 6 euro e 50 Perché parte da 13 Vai avanti Vai tocca a te Vai avanti Siamo dai Siamo 2 a 1 per te Dai 2 a 1 Ad avanti Vai Fammi ragionare Fammi ragionare Questo cappello qui È di Mark Che Mark è Dai bro Basta Perché stai contando Ma non sto cercando Sulla tastiera Basta Bro Per favore Allontana la tastiera Dal tuo computer No 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 Stai barando bro Siamo 3 a 1 E tu sei barando Siamo 2 a 1 Innanzitutto Siamo 2 a 1 Tu stai barando E io mi bevo Un po' di succhino Allora Secondo me questo Costa 200 euro Sbagliato È sbagliato È sbagliatissimo Di più o di meno Di meno 100 euro È sbagliato Quanto costa 135 E che Sbaglio C'è 100 euro Di margine di errore Vabbè ok Sì Va bene Quindi siamo 2 pari Per ora siamo 2 pari Siamo 2 pari Quindi non è sbagliato Devi dire giusto Cappo dovevi dire Altro che È sbagliato Stocca a me Stocca a me 2 pari Va bene Se te le faccio una bastarda Guarda questa Guarda questa Va bene Va bene Vai Questo qui è infame Questa che ti mando Sono fortissimo questo gioco Ma se siamo 2 pari Che è forte Vai Te l'ho inviata Hai 2 indizi Te lo ricordo 1200 bro Ok È la tua risposta definitiva Sì Non hai altre risposte Sei sicuro No Sì No Non è 1200 Vai Posso dirti di più o di meno Di più o di meno Un po' meno Un po' meno Sì 1200 sarà O 1000 Quindi Quindi 980 Sbagliato La risposta esatta Era 75 euro Ovviamente Se ti ho fregato Sì Bro ma non puoi far così No perché Devi dire o più o meno Tu mi hai detto un po' meno Perché c'entra Io ho detto di meno No bro è sbagliato No Così No io ho detto di meno E questa qui Sai perché Tu mi hai detto un pochino C'è quella di Prada Che è uguale Allora Allora Oddio Ah Questa Questa è difficilissima bro Questa è difficilissima Ehm Frami Mi devi dare un indizio Gigio Ma che indizio vuoi bro Guarda e spara Allora Secondo me Secondo me Questa costa Costano poco Le calze comunque Eh sono calze Ma tu sei un idiota Sai perché Perché bro Allora Sicuramente non costano più di 200 euro Giusto Più di 200 no Ok Allora io ti dico 100 Ho vinto per forza Perché Perché ho 100 euro di immagine di errore Se ti dico 100 ho vinto per forza Sì Perché da 0 a 200 ho preso tutto E certo E no Sì 40 euro No Quanto costano 602 Non dire cazzate Eh sì bro Fammi vedere Non l'hanno messo Non l'hanno messo bro Che pezzente Non l'hanno messo Non l'hanno messo Non l'hanno messo Comunque guarda 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 30 euro Mamma mia Mamma mia Se te l'ho fatta di brutto Dai qui sono stato bravissimo Guarda la giacca North Face Ah 300 Bravo Esatto 320 320 Va bene Poi te l'ho fatta un'altra uguale Vabbè Dai tocca a te Vabbè Siamo tre pari Tre pari Dai tre pari Sono stato bravo Pro Queste costano un botto Queste costano Bro Ma che ne sai Magari una replica bro No 1200 euro No Di più o di meno 2500 euro No 3100 3100 E lo sapevo che il prezzo era lì Ti compresti mai delle scarpe del genere No Mi piacciono proprio Cioè neanche gratis le prenderei No bro ma anche se Anche se dovessi Comunque Cioè devi fare una vita In cui fai il tronco bro Cioè non puoi fare niente Bro sei un idiota Perché? No Perché ho mandato quel prezzo sotto 3.500 Bro sei un idiota 3.500 3.500 costa bro No non vale No vale vale Eh mi spiace bro Mi spiace Mi spiace Mi spiace 3.500 Ma bro ma che è sta roba Guarda la pelliccia Allora 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 Secondo me questa costa 100 euro No 99.95 No bro Quanto costa? 75 Vabbè comunque ci ho preso lo stesso Sì vabbè però No ok ci hai preso Però non mi hai detto Il prezzo esatto Ma non c'entra Fra è giusto Ti ho detto 7.50 La maglietta costava 8.90 Ti ho detto 6.50 euro le calze Le costavano 6.50 euro Basta Basta Siamo 4.3 per me Te ne invio un'altra Ok Eh super easy No perché questa è una face per Gucci Bro costa la 1100 No Forse un po' di più Sì vabbè 2.000 Risposta definitiva Sì Sbagliato Di più? Sì No 2.8 6.700 Cristo Dio E sai perché lo so Perché me la sono regalata l'altro giorno Vabbè carina dai la compro Sì sì Giuro 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 Vai Ultimo per te Vai Ah 400 euro 409 Ah Sono un animale E Zerb Vabbè bro perché No bro perché li volevi comprare Li volevo comprare Basta scuse Questi qui sono scuse ignobili Perché ho beccato E ho vinto Sono il migliore Sono un campione In tutto questo bro Non ti sai ancora vestire Fai silenzio ragazzi Votate se mi vesto meglio io Nei commenti Sappiate che chi voterà Su se verrà bannato Non è vero Iscrivetevi anche l'attima Tra la campanellina Per vedermi è un nudo